Qui è Cesena, vi ricordo ancora il risultato al termine dei primi 45 minuti, il Cesena è in vantaggio per una rete a zero sul Milan, la rete è quella di Garlini al 42esimo minuto, bene questa rete ve la descrivo subito, Schachner se ne è andato con lui due uomini del Milan a cercare di fermare l'Austriaco, ma molto verso il centroavanti ha visto libero Garlini che ha raccolto l'invito e ha battuto Piotti, in quel momento Maldera deve aver toccato il pallone con le mani ma il gol è stato attribuito giustamente, io penso a Garlini comunque vedremo questa sera alla Moviola come esattamente si sono sono svolti i fatti, vi voglio anche dire che il Milan ha disputato un primo tempo contratto con i pensieri che lo perseguitono e quindi forse anche per tale situazione psicologica non ha approfittato delle occasioni da rete che sono capitate a suo vantaggio, ricordiamo per esempio al 25esimo Antonelli era da solo, antesolissimo davanti a Rechia, ad un paio di metri ha raccolto un pallone dalla destra, ha calciato immediatamente come si dice in bocca all'estremo che si è trovato così il pallone facilmente fra le braccia, poi un'azione la più bella forse del Milan, novellino a Jordan, Jordan al volo, ma al volo anche il portiere del Cesena e gli applausi sono stati scroscianti perché veramente l'estremo difensore Cesenate ha fatto una cosa magnifica, il Cesena sgonto di preoccupazioni sta giocando una partita pulita e piacevole, corre all'attacco, mette qualche volta per non dire spesso in agitazione la difesa del Milan e vada anche a difendersi con logica, qui c'è il sole alla Fiorita, la tifoseria distribuita massimamente nelle due curve, alla nord i milanisti e quella su di Romagnoli, Pullman da Milano e Treni con abbondanza di tifosi, qui il record assoluto di incasso e record assoluto di pubblico, si parla di 2-3 mila persone al di fuori dello stadio, vi ricordo ancora che arbitra Bergamo, vi ricordo anche la situazione mentre sta per dare inizio allo stesso Bergamo alla seconda parte di questo incontro, Cesena 1, Milan 0, la rete è quella di Garlini, il tempo è il 42esimo, linea e microfono a Napoli. A voi Cesena. Ce l'ha fatta anche perché l'estremo difensore del Cesena che è Recchi è in giornata felice, insomma non ha problemi, c'è stato poi un cambio nel Cesena, è uscito mezzo piccante, è entrato storgato, leggero infortunio a Evani ma è rimasto in campo, Milan comunque deciso di stabilire per intanto la situazione, spingi in avanti quanto può, Giordano, Novellino entrambi hanno cercato da fondo poco fa, ma la difesa del Cesena ha fatto buona guardia. Maldera ve lo dicevo si sta impegnando moltissimo, palleggia in aria ma non trova soluzione, c'è anche stato un calcio dalla bandierina per il Mila che è spacciato e niente, poi bellissima girata al volo di Battestini che ha spiorato l'attraverso, intanto nella curva ferrovia c'è stato un po' di fermenta ma adesso per fortuna tutto è calmo. Intanto l'allenatore del Milan dalla fanchina si sta sbracciando nel tentativo di spingere sempre più sotto la porta del Cesena i suoi. Il tempo è esattamente il dodicesimo della ripresa, la situazione è questa, Cesena 1, Milan 0, la rete è al 42esimo, Garlini, qui è Cesena, voi Napoli. 0-0, Fracalanzaro, Juventus, Ligna, Ciotti. Chiedo scusa a Sandro, chi deve intervenire? Era ancora Cesena, il Cesena è andato ancora a rete, Piraccini l'autore, vai Bortolucci. Bene allora Cesena 2, Milan 0, Everardo. Benissimo, perfetto. Benissimo, va bene, allora abbiamo ricevuto Everardo dalla noce. Sì, perfetto, qui è il ventunesimo minuto del secondo tempo, come sono venuto sul flash su Roberto Bortoluzzi, chiedo anzi scusa, ma dovevo segnalare il gol, il secondo gol del Cesena che è stato firmato da Piraccini. C'è stato un contropiede, appunto Cesenate, Schachner ha avuto il pallone, lo ha preso velocemente dalla passata Garlini. Garlini sotto molto bravo, ha spiazzato la difesa, ha toccato per Piraccini che ha sparato in porta e ha così, ha rato il piatto in questo momento, il Milan in attacco e gol. Gol il Milan in questo momento ha segnato un punto, un gol, quindi siamo sul 2-1. Comunque vai pure intanto collega. Sì, sono Giacoya, prendo la linea naturalmente, direi il Napoli è andato in vantaggio con Musell, il numero 7, siamo intanto giunti al 17esimo. Napoli 2, Genova 1, a voi Genova. Attenzione, scusami, vorrei sentire Everardo per il marcatore del Milan. Sì, è perfetto, allora è Jordan l'autore del gol per il Milan, di testa, c'è stato anzi uno scontro con Recchi e fortuito, Recchi e il portiere di Cesena è rimasto un attimo per terra, adesso è verticale, per fortuna nulla è accaduto. Quindi vi do la situazione esattamente quando siamo al 23esimo della ripresa, Cesena 2, Milan 1, ricordo ancora i marcatori, Garlino al 42esimo del primo tempo, poi nel secondo, 17esimo, Piraccini ancora per il Cesena. E poi Jordan per il Milan al 21esimo, qui è Cesena, a voi Napoli. Bene, bene, bene. Sulla rimessa in gioco cerca di ripartire il Catanzaro, l'azione prende piede sul setteo. Attenzione, attenzione, Cesena, il Milan è pervenuto al pareggio, gol di Romano. Siamo quindi a 2 a 2 fra Cesena e Milan quando siamo esattamente al 22esimo, vai Enrico. Benissimo, grazie Everardo. A te Cesena. Benzano, la situazione qui a Cesena quando mancano esattamente 9 minuti e 30 secondi al termine dell'ultima partita di questo campionato, Cesena 2, Milan 2, linea Napoli. Il Genova sta attaccando dopo questa rete che l'ha portato in svantaggio, ma lo fa con una certa confusione, evidentemente c'è anche nervosismo. In l'altra parte il sole che picchia da parecchio. Attenzione, Milan in vantaggio, 2, la rete è di Antonelli esattamente quando mancano, 8 minuti al termine. Antonelli ha portato in vantaggio il Milan. Quindi Cesena 2, Milan 3, rete di Antonelli a Napoli mi pare. Bene sì, Napoli riprende la linea, vedo che le emozioni non mancano evidentemente in questo gran finale del campionato, sia per quanto riguarda la testa che la coda. Il Genova sta ancora attaccando, ripeto, lo fa con una certa confusione, ma c'è secondo me anche un po' di nervosismo. Evidentemente il tempo scorre e ci si rende conto che i pericoli aumentano. 1-1, Trascoli, Bologna, a te Cesena. Sì, molto bene, mi date la linea nell'attivo in cui un giocatore del Cesena è stato espulso, mi pare si avversa, si così è infatti. Intanto vi ricordo che il Milan è passato in vantaggio 3-2 la situazione sul Cesena. Saetta da molto lontano di Antonelli al 37esimo che ha portato così in vantaggio la propria squadra. È stato un gol molto, molto bello. Vi dicevo nel precedente collegamento che i rossonelli stavano raccogliendo tutte le loro energie, le loro ultime possibilità di sperare. In un attacco continuo, peraltro farraginoso, ma insistente alla porta del Cesena. Cesena che conduceva, ricordiamo, per 2-0 e che adesso si vede soccombente per 3-2. Secondo rapidi calcoli, il Milan a questo punto sarebbe salvo. Sembrerebbe avere compiuto il miracolo. Comunque mancano ancora qui a Cesena due minuti al termine della partita, ma ci sarà senz'altro qualche cosa da recuperare perché l'arbitro che il signor Bergamo per qualche incidente, ma incidente di campo, niente di preoccupante, ha dovuto fermare il gioco. In questo momento c'è il giocatore del Milan che va in panchina, è romano, è zoppicante. Ci sta sedendo in questo attacco mentre il gioco è ripreso e il Milan è ancora in attacco. C'è un calcio dalla bandierina per il Milan quando mancano esattamente 1 minuto e 30 secondi al termine. Cesena due, Milan tre, linea Napoli. Benissimo, allora vediamo come fa. Scusa Mary, scusa Mary, il Genova è passato, ha pareggiato in questo momento con il numero 14 che è Faccenda che era entrato praticamente pochi minuti fa. C'è stata un'azione improvvisa da calcio d'angolo, piuttosto confusa, lui è riuscito a mettere in rete. Castellini era ormai spiazzato. Quindi il Genova in questo momento, siamo al quarantesimo e 50 secondi, ha pareggiato. 2-2 qui a Napoli. Qui è Cesena, il Milan ha battuto il Cesena per 3-2, linea Napoli. Ciotti scusi ma è Napoli finita 2-2. D'accordo, Giacoglia. Attenzione Cesena, scusami dalla noce, allora vorrei dire, dopo i nostri calcoli, Milan e Bologna in Serie B con il Como. Vai pure Everardo. Sì, in effetti così è. Il Milan ha vinto un incontro che sembrava ampiamente chiuso. 3-2 sul Cesena, perdeva 2-0, poi recuperato, fino a chiudere, come vi dicevo poco fa, per 3-2. Ma evidentemente questo sforzo non ha consentito ai milanisti di salvarsi dalla retrocessione, in quanto il Genova ha pareggiato, come abbiamo sentito, da Roberto Bortoluzzi e dai colleghi proprio a Napoli. Vi ricordo, vi ricordo le marcature, Garlini, per il Cesena al 42esimo del primo tempo, poi nel secondo Piracino, 17esimo, Jordan al 21esimo, 2-1, 21esimo perché avevo sbagliato prima il tempo, poi Romano al 27esimo e Altobelli al 37esimo. Va però dato atto al Milan, al Milan che ho visto oggi qui a Cesena, di tanto coraggio, di tanta volontà, di un tentativo emozionale, di un miracolo estremo. Non ce l'ha fatta, non ce la poteva fare. La classifica era troppo, troppo complicata. Cesena 2, Milan 3.